Ciao a tutti ragazzi, video a 1080p da ZOOC Z2, vediamo immediatamente il cambio del fuoco parecchio repentino, sembra davvero buono ok, buona la condizione di luce in questo momento per i video controlliamo ancora come si comporta col cambio di fuoco, mi sembra abbastanza rapido e veloce molto bene, facciamo anche due passi, un controsole pavimento rovinato, ritorniamo sul controsole, un pan veloce ripeto video a 1080p da ZOOC Z2 facciamo anche due passi così verifichiamo la stabilizzazione a schermo sembra abbastanza stabilizzato ma non da stabilizzazione ottica quindi dovrò darla poi al computer ma tutto sommato mi sembra abbastanza buona ritorniamo su una macro un'altra volta, molto bene bene, video a 1080p da ZOOC Z2, ciao a tutti